E' bravi gli sgoccioli! Ebbene si, oggi è il 27, il VOD di oggi 20 minuti EMOM, 4 round, al primo minuto 12 chest bar, al secondo minuto 12 thrusters, al terzo minuto 50 double under, al quarto minuto 12 unstamp sharp e al quinto minuto 12 deadlift. Pese e scalature come al solito sulla grafica, a domani per un altro VOD insieme su Ciper TV.